Ciao vi voglio parlare di Waveful un nuovo social tutto italiano che ti permette di guadagnare per i contenuti i like le visualizzazioni commenti follower e invitare gente a iscriversi e fare parte di questo social fatto da due fratelli italiani i fratelli Motta Link. Invito seguitemi nel mio gruppo di Facebook Waveful nuovo social tutto italiano fatto da due ragazzi italiani e li troverete spiegazioni e link invito grazie.